Silvana De Paulis del sindacato Direr, quali sono le criticità che è riscontrata in questa riorganizzazione che si sta facendo in seguito, in seno, alla giunta regionale? A ogni inizio di legislatura c'è normalmente una riorganizzazione e le riorganizzazioni portano molti momenti di criticità. Principalmente siamo un po' preoccupati perché ci pare un procedimento ancora troppo lento e pensiamo che questa cosa possa effettivamente paralizzare l'amministrazione senza farla funzionare fino all'autunno. Non comprendiamo ancora bene da dove si comincia perché pare che la prima cosa è per l'applicazione degli uffici forse bisognerebbe invece cominciare dalle direzioni e quindi dalle posizioni apicali nell'amministrazione per scendere poi man mano e fare un discorso complessivo. La prima posizione apicale coperta fino adesso ci ha visto con molte perplessità che abbiamo comunicato pure in giunta perché ci è sembrato che il bando fatto, i criteri utilizzati per la nomina del direttore della presidenza fossero in qualche modo carenti dal momento che l'incarico è stato comunque assegnato a un dirigente che ha poca esperienza dal punto di vista dirigenziale perché non ha neanche cinque anni di incarico dirigenziale effettivamente espletato. C'è già qualcuno come personale che si è rivolto a voi magari per paura di spostamento, di posizione e quant'altro? Noi, la classe dirigente sa benissimo che c'è la mobilità, è a disposizione tout court dell'amministrazione. Si aspetta che vengano fatti dei regolari bandi affinché si possano unire le esigenze dell'amministrazione di ricollocare le persone giuste al posto giusto con le esigenze dei dirigenti di svolgere effettivamente il lavoro che sentono a loro più vicino sul quale loro possono effettivamente dare di più nell'interesse dell'amministrazione. Preoccupa il fatto che per esempio ci siano dirigenti senza incarico, per il momento ce n'è solo uno però in una situazione in cui tanti posti sono scoperti, ci sono pure degli interim il fatto che possa esserci di nuovo un dirigente senza incarico e che quindi non svolge funzioni dirigenziali è una situazione molto negativa sia per l'amministrazione che continua a non usufruire della forza lavoro di cui ha bisogno sia per il dirigente in sé che va sul posto di lavoro senza poter esercitare appieno la sua professionalità e le sue mansioni.